questa sarà la copertina forse e sorse ciao ragazzi bentornati su Framore Sanco oggi un video di mattina sono le 10 e mezzo circa di mattina del giovedì santo non so se è giovedì santo però comunque giovedì 8 dicembre che festa purtroppo non farò il ponte mi dole dirvelo però sono a casa quindi facciamo questo video di mattina anche perchè poi è da studiare che poi lo devo pubblicare lunedì scusate per le occhiaie, le borse per la voce assonnata questo è il massimo che posso darvi comunque non siamo qua per parlare di me siamo qua per parlare di questo mitico discos verità supposte faccio sempre fatica a ricordarmelo perchè è difficile ricorregare la copertina cioè la copertina è abbastanza casuale in più e non c'è scritto il titolo in più non c'è nessuna canzone che si chiama verità supposte come l'album precedente siamo appunto interrogativo punto esclamativo non c'è una title track quindi è anche difficile ricordarselo e ogni volta che lo vedo mi viene in mente il secondo secondo me perchè comunque secondo me è razzeccato come nome dell'album dal momento che è il secondo album di Caparezza oggi ho deciso di fare ho deciso di fare quello per questo non so più parlare perchè è da un po' che non cioè è da un paio di video che non faccio più Caparezza essendo che ho 8 album meglio un po' insomma iniziare a scodellarcelo che termine vabbè allora vi faccio vedere un attimo il back intanto giudichiamolo il libro dalla copertina almeno vi faccio subito vedere aspetta questo è il back allora come si potrà capire queste sono supposte infatti verità supposte che è alla fine il titolo è da una citazione di nessuna razza sai che non mi ricordo quello che con discorsi vuoi fa il duro suppone verità che in quanto supposte se le metta nel culo questa è la citazione troppe cose sullo scopo non mi viene non mi capisco non mi capisco non mi capisco non mi capisco non voglio essere interrotto io salto come un po' con nessuna razza si è nessuna razza ho dovuto cantare tutto per ricordarmelo comunque allora vabbè vi do un consiglio ascoltatevelo è un bell'album nonostante sia veramente vecchio è un album del 2003 allora iniziamo con la valutazione copertina carina cioè anche abbastanza moderna in realtà cioè è una copertina normalissima essendo una foto di lui così molto mi piace la foto sinceramente mi piacciono i colori questi colori verdastri con questo che è il vecchio simbolo di caparezza che ci sta il retro il retro invece lo svaluta come il retro svaluta anche il cd di punto interrogativo punto esclamativo perché ok va bene l'idea di mettere le supposte che tra l'altro visto così in realtà sembra tipo il colosseo cioè sembrano strati infiniti del colosseo sorti però cioè poteva essere sicuramente attuata meglio cioè ragazzi vedendola così no è bruttina il font è un po' vecchio ci può stare non è orribile però boom poi c'è questa scritta scritta che è composto da caparezza prodotto non già con font un po' bruttino ci sono tutti i simboli del cazzo non lo so cioè non è un granché la copertina però cioè non è un granché il retro adesso lo andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è dentro allora la prima apertura si presenta in questo modo con lui che ti guarda in modo molto molesto a destra tra l'altro colori bruciati negli alti ma forse è anche fatto apposta perché è un po' vintage come foto tra l'altro punto verità supposte insomma ha senso e il cd così che è uguale alla copertina e ok cioè ci può stare niente di assurdo se torniamo al cd c'è questa cosa che la posso apprezzare come scelta nel senso che qua penso che ah no qua c'è ah ok qua è pieno di easter egg se vi mettete a leggere è pieno di cazzate la prima cosa ditta ok publishing perché a natale mi hanno offerto il panettone insomma un po' di cose a caso persone che sono fatte i nomi e cognomi sono un po' di citazioni un po' di stronzate però boh cioè vedendolo così ok però non c'è neanche uno sfondo di del cd è bianco con delle scritte mentre questa foto ci può stare adesso andiamo a vedere invece l'album dentro dell'album eccoci qua andiamo ad aprire l'album abbiamo tutte foto in questo stile qua e ci stanno e poi abbiamo i testi accanto che boh il fonte dei titoli è lo stesso dei titoli scritti nel retro e il fonte delle scritte è lo stesso delle altre scritte fonte ripeto bruttino sempre con questo sfondo delle supposte andiamo a vederlo tutto dai non giudichiamo da una pagina sola andiamo un po' qua ci sono soltanto titoli una borsa piena di titoli titoli e poi c'è lui sdraiato sempre un po' in questo stile vintage anche se ci sono due stili diversi perché questo non è lo stesso stile della copertina verdastro e della prima pagina dove c'era andiamo a vedere questa della prima pagina aveva senso no? anche perché qua lui si vede a metà e qua lui si vede a metà con la mano che copre l'altra metà sembra che abbia anche un senso qua invece è solo lui sdraiato un po' vintage così però non sono foto brutte scorro vabbè ci sono che ci sono testi non vi faccio vedere qua c'è questo cos'è vabbè tra l'altro da notare io della vita non ho capito un cazzo il titolo è scritto così probabilmente per farcelo entrare o semplicemente per per rendere più carino tra l'altro è una traccia che smentisce tutte le precedenti perfetto ogni traccia ha una mini descrizione qui c'è tanta bella musica e tanta bella gente il locale è trendy le ragazze sono fighe e come resident abbiamo DJ sti tazzi vabbè insomma ci sta allora passiamo alla valutazione io come sapete giudico sempre idee tra virgolette un po' cioè design idee dietro al design in sé e poi attuazione effettiva allora qua di design e di idee di design io apprezzo verità supposte ci sono le supposte dietro è l'unico senso che ha poi non c'è niente di coerente non c'è niente di almeno non dà l'impressione di essere una cosa pensata dà l'impressione di essere una cosa buttata lì e dice vabbè faccio questo album questa è la copertina mettiamoci queste foto dentro mettiamoci i testi nel retro siccome il disco si chiama verità supposte diciamo che nel retro c'è lo sfondo delle supposte e a sto punto lo mettiamo anche dentro l'album dove ci sono i testi basta questo è il massimo di idee di design che sembra avere poi magari boh c'è uno studio dietro che io non capisco non colgo però questa è l'impressione che dà quindi al design e idee di design non so se arrivare al 6 perché non c'è niente ah tra l'altro vi faccio vedere anche la costola che non vi ho fatto vedere questa è la costola penso che fosse quello che vi aspettavate tra l'altro ecco qua abbiamo una supposta singola messa qua poi sembra un proiettile più che è una supposta però comunque appunto idee design non mi sento neanche di dargli la sufficienza perché non c'è un'idea di design a parte quella delle supposte è anche bruttina non è una cosa che si è inventata una cosa assurda titolo e verità supposte ci mettiamo al suo posto quindi gli darei un 5 ragazzi mi dispiace dirvelo ma gli darei un 5 non 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 ci avevo mai riflettuto su questo disco però come design e idee mi piace di più il primo mi piace di più il primo perché ad esempio la copertina era particolare con lui renderizzato con il mondo con la sua capigliatura se non è proprio la sua capigliatura è proprio il mondo riccio nel senso proprio un riccio l'animale non il riccio lì e poi c'aveva almeno qualche ideina tipo quando soglievi il disco sotto c'erano le forbici che era una citazione al disco che non è mai uscito che sarebbe dovuto essere il primo insomma c'era un po' di chicche qua no ma non c'è niente l'unica cosa di chicche che trovi levando il disco sono quelle scritte a cerchio dove c'è qualche easter egg o qualche cazzata o qualche cisazione però non sono neanche frutto cioè nel senso che avrei potuto scriverle io non c'è un'idea dietro quindi mi sento di dargli 5 per l'idea e il design per quanto riguarda l'attuazione almeno il 6 sicuramente almeno il 6 sicuramente perché perché comunque non è orribile finché è carino da vedere ci sta almeno il 6 non è orribile però diciamo che pecca un po' nell'attuazione come ho detto prima non c'è un'immagine di sfondo al disco queste immagini dietro è bruttina per quanto possa avere senso i font non sono un granché la costra ci può stare cioè vedendo solo la costra ok è normale vabbè allora gli do un 6 e mezzo giusto perché le foto sono carine anche se sono un po' incoerenti fra di loro però la media quindi verrebbe di 5 11,5 diviso 2 11 diviso 2 fa 6 no fa 5 e mezzo mentre 3,5 diventa è un 6 meno questo album allora è un 6 meno niente ragazzi mi spiace un 6 meno in caperezza non me lo sarei per niente aspettato ha preso addirittura meno di quello dei bersaglieri ha preso meno di quello dei bersaglieri però questa è ovviamente ho giudicato la copertina infatti come si dice non giudicare un libro della copertina questo è proprio l'ho fatto apposta no però poteva essere che l'avessi fatto apposta per dire non giudicate un libro della copertina perché questo album esteticamente è un po' una merda ma il senso cioè alla fine l'importanza dell'album sono le canzone anche se apprezzo molto una copertina fatta bene come avete visto per rancore mi piace mi gasa un botto perché mi piace collezionare gli album però di norma tra l'altro ultimamente da qua da 20 anni a questa parte non si collezionava più i dischi perché non ha senso cioè si possono comprare anche se ultimamente sta tornando un po' la moda di collezionarli per il meme quindi comunque ci sta giudicarli ma appunto concludendo si merita un 6- magari avessi dovuto dargli un voto solo gli avrei dato un 6 perché non è brutto nel complesso però come ho detto io voglio valutare due aspetti e con questi due aspetti mi viene fuori un 6- almeno personalmente voi che cosa ne pensate ditemelo nei commenti secondo voi ho dato un voto troppo basso oppure fa ancora più cagare io risponderò a tutti i commenti come sempre e noi ci vediamo prossimo lunedì con un nuovo disco e domani con un episodio delle patenti e poi chissà quindi niente vi saluto ci salutiamo ciao mi date la mano oh bravi grazie e niente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao